www.marizopoli.it, è in edicola settimanale Mondo Padano, eccolo qua, nell'inserto Economia e Lavoro, eccolo qui, come da tradizione nella rubrica Risparmio e Finanza, eccola qua, rubrica Risparmio e Finanza, è l'inserto del Mondo Padano, che ci parla Giosi Biondelli, educatore e consulente finanziario, quando la violenza è economica, cultura finanziaria e autonomia professionale, per essere libere di scegliere. Ecco, c'è anche la violenza economica nei confronti delle donne, quindi una tragica fine di Giulia, sia anche fonte di riflessione sulla condizione della donna, quindi anche sotto l'aspetto della cultura finanziaria, dell'educazione finanziaria, per un'autonomia finanziaria. Vi invito a leggere queste bellissime riflessioni da parte di Giosi Biondelli, in questa, una donna su due, le statistiche sono queste, una donna su due è vittima di violenza economica, controllo scontrino, insomma, non vi rubo niente dalla lettura. Una buona lettura, alla prossima!